Amici chitarristi ben ritrovati, io sono Michele Bianchi e oggi vi voglio parlare dei cavi flat ribbon patch di Erniball nella confezione multipack. Il set è composto da 10 cavi di diverse misure ideati per allestire la tua pedaliera. Andiamo a fare l'unboxing. All'interno della scatola troviamo 10 cavi, 2 da 60 cm.96, 2 da 30 cm.48, 4 cavi da 15 cm.24 e 2 cavi da 7 cm.62. Il connettore angolare piatto ci aiuta a recuperare spazio quando cabliamo la nostra pedaliera. La somma di misura di due connettori arriva ad un centimetro e mezzo, quindi recuperiamo mezzo centimetro rispetto ai connettori più diffusi. Anche il cavo è stato concepito piatto sempre per ottimizzare lo spazio, in più il rivestimento in PVC ne agevola l'elasticità. I componenti che Erniball utilizza per questi cavi sono pensati per durare nel tempo e per non alterare il segnale. Grazie alla doppia schermatura infatti abbiamo una riduzione del rumore di fondo e ritroveremo sempre un segnale definito che non altera le armoniche. In più il filamento di rame privo di ossigeno al 99.5% è resistente alla corrosione e ci consente di utilizzare questi cavi praticamente in qualsiasi condizione. Erniball sappiamo che è famosa in tutto il mondo per i pedali volume e per gli expression pedal. Qui con me ne ho tre. L'expression overdrive, l'expression tremolo e il pedale volume più accordatore. Andiamo a cablarli con i flat ribbon e ve li faccio sentire. Ciao a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.